Superare il difetto fatale ma perdere la vita. Oggi abbiamo una domanda molto interessante che mi ha portato Talgar Albas. Alura, leggiamo il suo commento. È una domanda un po' vecchiotta ma l'ho recuperato solo adesso. Il protagonista può morire nello scontro finale con l'antagonista anche se ha completamente superato il suo difetto fatale? E se sì, potrebbe rammaricarsi di non essere cambiato completamente al midpoint? Si tratta di un horror. Il personaggio da scettico comincia a credere nel soprannaturale ma sottovaluta il pericolo fino all'esperienza di morte. Ok. La premessa della storia è scherzare con l'occulto porta alla morte. Scherzare con l'occulto porta alla morte. Ok, molto chiaro. Sì, riesco già a visualizzare la storia. Va bene. Va bene. Allora, prima di tutto, signori, sono il Duca di Baionette e mi occupo di insegnare agli scrittori come scatenare la loro vena che arriva, come realizzare e tirar fuori le migliori storie da dentro di sé, in pratica come diventare il miglior scrittore che potete diventare. Chiaro? E lo faccio tramite una serie di videocorsi che, sfortunatamente, alla data attuale in cui mi state vedendo, quindi da qualche parte a luglio 2022, non sono più disponibili per la vendita ma torneranno in futuro. Bene signori, allora, vediamo subito. Ah, però c'è sempre il corso base. Quello è gratis, trovate la playlist, guardate il corso base, playlist è qui su YouTube. Allora, torniamo alla domanda che è molto interessante. Allora, si tratta di un horror? Va bene. Il personaggio da scettico comincia a credere nel soprannaturale ma sottovaluta il pericolo fino all'esperienza di morte. Scherzare? Quello occulto porta la morte, lo ha. Nota a margine, non c'entra. Non c'entra con la domanda. Di Talgar, con una domanda molto intelligente, va benissimo. La premessa, tal cosa porta la morte, tal cosa porta la rovina, tal cosa porta la vittoria, è la forma più pigra di premessa possibile. Lo so che vi ho fatto degli esempi anche così, ma è l'anche che conta. Cioè, il tipo di promessa che dovrebbe interessarvi non è tanto la premessa che descrive in modo pigro, in modo pigro. In modo pigro il finale, tipo questa, la tal cosa porta la morte, la tal cosa porta la vittoria. Ecco, al successo, non è. È più un qualcosa che contiene anche quel significato, ma dà anche un significato in più è la storia, per esempio, perché se non ha senso quello che dico. Prendiamo Molière, ok? Prendiamo la premessa di Tartufo di Molière, come riportata dall'Aio Segri in L'arte della scrittura drammaturgica. La premessa di Tartufo è chi scava una buca, chi scava una buca per gli altri, finisce per caderci a sua volta, giusto? Chi scava una buca per gli altri, finisce per caderci a sua volta. Non è un pigro e poco stimolante chi tenta di ingannare gli altri porta alla rovina, oppure le menzogne portano alla rovina, è chi scava una buca per gli altri, ci cade a sua volta. Cioè c'è già un significato dove vedi una storia dove qualcuno crea un tranello e probabilmente quel tranello si ritorce contro contro di lui, perché lui cade nella stessa buca scavata per gli altri. Quindi vuol dire che c'è un contro tranello, una struttura dove verrà svelato, smentito e fregato. Cioè capite? È già una cosa molto più stimolante da pensare, ok? Bene. Fatta questa premessa che non c'entra con la domanda di Talgar, proseguiamo. Allora, mi ha indicato che ha completamente superato il suo difetto fatale, ok? Quindi in teoria se lo supera completamente vuol dire che la storia è un arco eroico, ok? Bene. Non è cambiato completamente al midpoint, dice. Ok. Rammaricarsi non è cambiato completamente al midpoint. Allora, quando anche cambi completamente l'arco della storia non cambi mai completamente al midpoint, perché il midpoint, come spiegato nel corso avanzato di sceneggiatura, è un falso superamento, cioè un superamento incompleto. Adesso ti faccio un esempio con la tua storia. Quindi tu potresti sapere il personaggio che appunto ha avuto il classico superamento del midpoint incompleto e vuoi una storia in cui alla fine questo superamento incompleto, se è un superamento errato, incompleto, chiamalo come vuoi, sia sufficientemente grave, sufficientemente incompleto che per correggerlo sia poi obbligato a, come dici tu, a superare il difetto fatale ma perdere la vita. Quindi vincere ma vincere venendo sconfitto, quindi morendo. Quindi vincere ma morendo, non venendo sconfitto. Allora, potrebbe essere una storia di questo tipo, non mi è difficile immaginarla. Devi fare che il superamento del midpoint è un superamento veramente di quelli un po' a schifo. Quelle cose a metà che a guardarlo non sei tanto sicuro se andrà in direzione della tragedia o in direzione dell'arco eroico. Quelle cose molto a metà perché, per esempio, prendiamo il tuo caso, lui a inizio è scettico e poi comincia a chiedere al sovannaturale, ok? Ma sottovaluta il pericolo, quindi ci serve una caratteristica, un qualcosa che lo renda idoneo a sottovalutare il pericolo anche quando comincia a credere. Io direi che il nostro personaggio potrebbe essere arrogante. Nella sua arroganza pensa di conoscere tutto e di avere tutto sotto controllo. Tant'è che all'inizio non crede nel sovannaturale perché lui magari è arrogante e ti serve un'arroganza coerente. Quale persona arrogante potrebbe a priori non credere nel sovannaturale? Ora, una persona con una formazione scientifica tradizionale sia la mente aperta corretta e in realtà non ha questo problema. Non esiste il sovannaturale per la scienza. Ogni cosa è indagabile, semplicemente alcune cose. Si rivelano essere fondamentalmente delle minchiate che dici non vale la pena perderci tempo, poi magari i miei sbagli sono vere, ok? Chiaro? Ma se tu sei una persona arrogante, quindi trasformi la scienza da un metodo, da un approccio alla conoscenza, lo trasformi in una specie di fede e quindi se le cose che tu non pensi vere è data la scienza, allora non sono vere le maltratti. Quindi arrogante, presuntuoso, quello che vuoi. In questo caso potrebbe, avendo una natura arrogante di questo tipo, uno avere il motivo di non credere al sovannaturale, per vari motivi, e secondo motivo potrebbe una volta che decide che il sovannaturale è vero, mantenere quel filone di arroganza che lo porta a dire, bene, ho capito che cos'è, sono in grado di affrontarle, faccio il culo a tutti. Cioè di nuovo l'arroganza rimane. Accettato che il sovannaturale esiste, ma lo affronta con la sua tipica arroganza di persona convinta di poter spaccare il culo al mondo e quello che vuoi, ok? E in questo caso se mantiene questo superamento così tanto incompleto, ha superato giusto una fetta. Quanto basta da superare il midpoint in modo vittorioso o uscirne in modo decente post sconfitta del midpoint? Dipende anche che scelta vuoi fare in questo caso. Potrebbe tanto essere un midpoint all'Abaddon, quanto un midpoint alla sangue del mio sangue, alla Venezia a me, cioè van bene tutti i tipi, non è limitante per il nostro esempio, ok? Poi appunto adesso conosce e crede nel sovannaturale, quindi lo affronta correttamente ma rischiando troppo perché è arrogante, al punto che poi cade nell'esperienza di morte e nell'esperienza di morte i suoi errori per la sua arroganza lo porteranno, che ne so, a dove sacrificare la vita per salvare il salvabile. Mettiamo che la posta in gioco è amore e appartenenza, a causa del suo comportamento totalmente esagerato, arrogante, folle, ha messo gravemente in pericolo i suoi figli e l'unico modo che ha per salvare i suoi figli è morire lui stesso come conseguenza di aver superato la sua assurda arroganza, aveva preparato adesso un piano che permetta di salvare i figli, ma nell'insieme il danno è stato tale che l'unico modo che ha per salvare i suoi figli è fare qualcosa di spericolato in quella fine comunque si annienta il male terrificante di questo cazzo di horror ma muore anche lui, si sacrifica per un bene superiore, ha una morte eroica, ok? Potrebbe andare bene. Adesso non è l'unica opzione possibile però era per dire che sì si può fare, puoi avere un personaggio che supera il difetto fatale ma perde la vita, questo perdere la vita può avere un significato eroico, come in un certo senso un significato eroico la morte in La fine dell'uomo, ok? Non vi dico di chi, ma come anche in altri romanzi magari non so, pensate ai romanzi che avete letto in cui magari un personaggio secondario ha una morte eroica che rappresenta il culmine delle sue credenze, della sua visione del mondo eccetera eccetera, pensate una cosa così. Io vi dico che per esempio è una morte eroica quella di Hayace Telamonio che nonostante tutto e tutti, il figlio, la moglie eccetera eccetera, lui per non vivere con l'onta di accettare implicitamente la corruzione del nuovo mondo acheo, un mondo acheo che non chiede più dei vecchi valori guerrieri ma crede soltanto nel denaro, nell'avidità, nella corruzione morale, politica, quello che volete, lui arriva a mentire eccetera eccetera pur di togliersi la vita perché non può essere colluso con un mondo che ritiene disonorevole. La morte di Hayace Telamonio, siete presente, classiche cose greche, è una morte eroica, è una morte di una persona che non muore sconfitto in una tragedia, non è l'amleto che ha fatto un gran disastro ma alla fine comunque negli ultimi momenti di vita cede la corona a forte braccio che almeno abbiamo fatto un disastro ma salviamo almeno il destino della nazione, ok? È proprio una morte ricercata come atto eroico, la morte come protesta sociale. Questo è un elemento per esempio che hanno in comune i greci antichi che avevano una certa cultura guerriera con ad esempio il mondo giapponese che anche lì è una cultura guerriera che porta a distanza di mezzo mondo fondamentalmente a sviluppare idee e visioni del suicidio come atto accusatorio simili. Poi sono cose totalmente diverse, lo capisco, ma c'è un punto di contatto interessante secondo me. Io avevo un libro molto carino consigliatemi da un'amica alcuni anni fa, ci ha fatto mi sembra la tesi di laurea, eccolo qui, la morte volontaria in Giappone di Pinguet, non scalleggere, fa niente, ci avevo dato un'occhiata, prima o poi me lo voglio leggere in modo completo, sembrava molto figo, ma aveva parlato un po' di queste cose anni fa. Comunque torniamo all'argomento importante, quindi possiamo avere bla 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 la mo' superamento di effetto fatale della vita? Sì. Ha competente il superamento di effetto fatale? Sì. Può rammaricarsi di non essere cambiato completamente mentre Midpoint? Sì. In questo caso si rammarica della propria arroganza, della propria spregiudicatezza, quello che vuoi, che lo porta nell'esperienza di morte a trovare i propri figli catturati dall'enorme entità malvagia che magari è entrata da un Tyrolista o quello che vuoi, insomma. Adesso non posso inventarmi una trama da zero, poi è meglio horror. Oddio, a me non dispiacciono, però non è anche una cosa che cerco apposta. È più facile che mi trovo a cercare un film rosa da guardare nuovo che non un horror. Ok? E... un po' interessantissimi adesso, però non è esattamente il mio genere, non c'ho anche tanta sbatta di farti altri esempi, te l'ho fatto uno. Quindi scherzare con l'occulto porta alla morte, quel promessa va bene, quindi siamo direi tutto quanto in linea. Torna tutto. Bene, bene, bene. Quindi vedete, è facile. Non abbiamo neanche chiamato in causa una tragedia scampata per un pelo o altre cose. In questo caso è proprio un arco eroico tradizionale, semplicemente è stato superato in modo molto blando, mentre una tragedia scampata per un pelo avresti magari un superamento del midpoint assente, seguito da un superamento tardivissimo solo in esperienza di morte. Invece lui in questo caso fa un primo passo nel midpoint, ma tanto piccolo, a causa del significato del suo difetto fatale in relazione alla sua formazione, che io ho scelto scientifica in questo caso, e poi nell'esperienza di morte fa il passo in più, ma ormai per salvare al 100% la posta in gioco, magari in questo caso non per motivi di obbligo drammaturgico, per motivi di realismo stiamo parlando, a livello di obbligo drammaturgico potrebbe ancora salvare tutto tutti anche se stesso, ok? Poi ovviamente un finale agrodolce dove un po' si perde, un po' si vince, è sempre il migliore, ne parlo, consiglia fortemente McKean Story mi sembra, io lo consiglio ancora più fortemente nel mio corso avanzato in sceneggiatura, me l'ha citato anche recentemente un mio corsista, e quindi non è una necessità drammaturgia, un obbligo, però per realismo certe volte ti trovi che non c'è modo che il personaggio vinca senza morire, o certe volte non c'è modo che la storia finisca senza che lui muoia in qualche modo, ok? In quei casi uno, per realismo, vai a ritarare, ok, prima la storia, in modo che questa necessità realistica sia soddisfatta e sia un completamento ideale di una eleganza drammaturgica precedente. Cioè non devi trovarti che ti hai fatto una storia che poi il personaggio deve morire per forza, ma a questo punto come l'hai fatta prima non ha senso, e allora dici, allora vaffanculo lo faccio sopravvivere per miracolo. No, piuttosto se deve morire per forza per motivi di realismo, mi correggi prima la storia facendo in modo che quella morte abbia un pieno significato ma non me lo deve salvare per miracolo. Sì, mi sto rivolgendo a tantissimi film che escono continuamente, ok? Quindi bene signori, direi che abbiamo detto tutto quello che serviva, ok? Chi di voi non ha ancora fatto il corso base lo faccio, trovate gratis in playlist. Chi non ha fatto invece ancora il doppio corso avanzato, iscrittura creativa e sceneggiatura, mi dispiace, dovete aspettare qualche mesetto che torni. Per adesso direi che tutto quanto. Buone vacanze, buon caldo, buon morire sotto il soleone, sudare, puzzare, zanzare, quelle robe lì. Buona siccità e tutte quelle robe lì. E ci sentiamo al prossimo video. Alla prossima.